e bentornati anche io sto analizzando questa bella stazione perché mi sembra sexy ok no ok quindi bentornati al nostro world super metroid parte 4 per riprendere il nostro metroidino forza Andiamo Oh adesso la parte attiva Non so come si chiamano Ancora non ci credi C'è un acquario Un acquario di energia Vabbè almeno ho più energia Ok Qua c'è questa creatura Non mi fa paura Non l'ha segnato di notte E bianco No Vabbè un po Vabbè niente scendiamo a No Fire Anche qua No Fire è brutto Quindi No Fire Non si chiamano No Fire Ecco in questo caso la Nintendo Ha avuto una buona scelta per il nome Beh si come in passare C'è un proprio senso legato al nome Quindi E va bene E' una cosa buona Accettabile dai Adesso io mi surrescaldo Non è più le caldate No Sì perché se me si surrescaldano Tante vai in calore E le rifanette Vorrei vedere Basta Questo è un salto di lato Questo qua si chiama Desjiga Desjiga Ok sono il resto Ciao a tutti Ben 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 Vedo Volevo dire Che Desjiga Non è collegato Non è collegato Al fatto che Si è avvigliato Quindi come Non me lo vede Bora Basta Ciao Lascio il posto Aroots non sono d'accordo perchè il fatto che non senti diventare quello che fa non ha senso ma allora Ernesto è una testa di cazzo e lascialo parlare fai che se non va fuori dalle balle e poi basta e poi domani che se non va e vado ha più senso chiamarlo è stupido qua c'è un terremoto questo coso mi dà fastidio non fosse con un bel supermissio 10122 allora sto merdino sto specie di cavalluccio marino del cazzo io sapevo cosa che non mi ricordo cavalluccio marino del cazzo e la tua cazzo derca oh derca grazie derca see you later e questa è la zona la zona dei team e qua troveremo una stazione a allora se troviamo la mappa siamo a posto così andiamo a prenderci il bel super cinese sexy e ce lo scopiamo amabilmente così possiamo correre velocemente qua c'è un colpo vabbè in alto c'errò andiamo a vedere cosa c'è di qua un ca un ca un ca aspetta qua non lo volevi piazzare se non è tanto al culo guarda che faccio sta arrivando il sfigatello Mario eh si questi qua sono i condotti stile Mario non so come si arriva di la no che non cado su e ma perché magari di la mi collego con l'altra zona poi vabbè c'era quella tezzana quella tezzana due strade perfetto adesso scelgo quella sbagliata vedrai aia che figo è questi qua sono quelli che ci sono i nodi rem però i nodi rem rem e e non mi ricordo come si chiamano sono un dildendo oggi lo so però un dildendo un dildo aspetta di qua che genio io mi prendo bene poi mi sfuto siamo chiusi al canale qua non si vado da nessuna pazza vuoi prendere il cinese sexone eh il cinese devo trovarlo mi serve il cinese un alien un alien questo qua è un un fune si chiama fune non perché è una corda si chiama fune a me sembra che sia per quello beh si un serpentello ridifusion ah si ho capito quali sono lunghi si si non sei lungo no non ho preso permesso non ho preso permesso mi da fastidio sto tetamoto lagga tutto eh ah un ripper aia ok ora mi appallottolo mi appallottolo bill mi stavo pensando anch'io questo è un cazzo cioè questo ha proprio la forma del cazzo quelli la oh quelli la brain star ci assomigliavano poi questo conferma tutto un gioco eeeh poi mettono anche i super cinesi eeeh questo è un DREKA un DREKA un DREKA è tornato ma stavolta cammina però non è sempre DREKA c'è al certo allora di qua mi sa che è per caso poi c'è una merda e la lasciamo lì adesso esco un altro del cazzo allora su che amici mi cazzo vediamo cosa c'è di qua vabbè allora facciamo un fune del cazzo un fune un altro un altro fune oh che ci passa bene un altro fune ricordati che devi premere select e via si si no perché magari ci dimentico ma questo è vero a giocancio ma io tanto frutto il gioco la gioia eeeh eeeh più avanti non mi ricordo dove però lo trovi nooo ragionda io pensavo fosse il super cinesi ma nooo mi sarebbe anche ragionda vabbè certo eeeh ok e adesso andiamo eeeh non andiamo eeeh mi salgo di me ah ah che culo si salva il culo e salva il culo di samus la moglie il sodo di samus ma è lo stesso tempo il sodo è grosso fai cagare qua eeeh 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 ok adesso possiamo fare facciamo pianta ho capito quello sbagliato si vabbè non stai niente oh ho due super missile ragazzi eeeh vedi capita facciuolo strigli questi per caso stridono mmm può essere allora non hanno fantasia anche in questo caso avrei da ridire taccica zitto uuuuuh eeeh magari non lascia almeno uscire no non non magari era mario che usciva dal tubo tu dai i due g ci si ah ho capito dove sto andando va bello ma stai contento ok è lui è la Y è un bel super cinesone la lava sta salita è abbastanza veloce fatti il cinese dai dai che faccio il cinese aiuto, guarda come è salitato il cuore è sempre brucia sarei scusate ma io dovrei andare mi sa che non vuoi nessuna partita qui dovevo andare ah ti sei morito è un po' è acido, lava acida ok ma qua mi servirebbe il e qua non so se riesco a fottere il gioco eh vabbè però sono più cazzo più cazzo più cazzo ma adesso dove devo andare? no scatate che non sono andato dall'altra parte ma già è vero e mo sono cazzo qua c'è lo scusatello ce l'hai bloccato via di qua però anche giù c'era una strada spera spera va ok vediamo cosa c'è giù io sono venuto qua per sta roba ma dai per sti schifo che senso? che senso sono? e Ernesto stai zitto? ok ok ha risposto con due voci eh una volta è multivoce Ernesto è multifaschi ahahah ahahah ahia eh ma quanti sono? ora c'è Fune c'è un marzetto Fune nasconderà un segreto non nasconderà non nasconderà è bloccato no voi lasciatemi stare brutte cose schifosi Samus oh il cinese si ho tutte le merde però adesso non hai dato niente no 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 adesso è super cinese posso andare dall'altra parte quindi dall'altra parte ci andiamo nel prossimo episodio continuate a seguirmi perché il cinesone eh tanta roba eh credo che è stato scialvo io metterei tanti non mi piace perché non ha fatto niente cosa? ma cosa hai preso il cinese? eh vabbè eh ma il cinese cioè vabbè dai solo per il cinese due mi piace a testa ci sta bene dai quindi avete una scusa per seguirmi nel prossimo dove farò tanto alla prossima e farà tanti cinesi eh tanti 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 ciao ragazzi ok ciao